Se vogliono raggiungerci abbiamo queste due meravigliose creature che possono arrivare da questa parte Eccola Hey là buongiorno buona sera buon'antempo e benvenuti nel nostro canale Io sono Allie e direi su Allie Abri Channel Vi abbiamo portato il vlog del nostro primo evento al Giustanchini Store Infatti il 10 di settembre è tenuto il nostro fantastico evento proprio da Giustanchini Store È stata una giornata meravigliosa penso una delle giornate più emozionanti della nostra vita Infatti non ci aspettavamo tantissime persone che sono venute da tutta Italia Addirittura da Ischia, da Roma, da Fornì, dalla Spezia, da Bologna Da località veramente lontanissime soltanto per stare insieme a noi, farsi delle foto, autografare e passare un pomeriggio insieme Perché siamo stati insieme dalle 3 fino alle 6 e mezza E abbiamo deciso di registrare un vlog per farlo vedere a coloro che purtroppo non sono riuscite a venire Vi ringraziamo ancora tantissimo veramente Cioè noi eravamo forse anche emozionatissime dal video Ci siamo accorti che la nostra community è veramente 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 legatissima e forte Quindi vi ringraziamo a tutti per far parte della San Cassanis Family E vi ringraziamo tantissimo per tutti i regali che ci avete portato Infatti abbiamo fatto un TikTok dedicato Ma anche tantissimi quaderni, vi è segnali, libri, cartelloni Noi assolutamente a piangere, stamattina mentre apriamo tutto Noi speriamo veramente tantissimo di poter fare altri eventi Spassi tutta Italia Perché agli auri Sì perché è un'emozione unica finalmente Poter vedere delle persone al nostro community finalmente in volto Invece che parlare a uno schermo Poter dare un nome a quelle persone e abbracciarle una a una Direi di lasciarvi Subito con il video Eccole, questa è l'agitazione dietro le quinte Prima che parta Meno cinque Cinque Ragazze Non ce la faccio Ragazze come va? Hai c'era mamma a posto di me Ragazze Respirate dal naso Espirate dalla bocca Ce la faremo Ho fatto la maggioritana questa Io non l'ho fatta Poverina, poverina Cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità anche di dialogare Con queste due meravigliose franciulle Che come dicevo mi sono diventamente particolarmente simpatiche Perché hanno un bel sorriso Perché avevo un bel sorriso oggi Con il caos E i contenuti In una società Per i contenuti sono sempre Pocca roba E quindi oggi Non vedo finire A questo Il nostro Gravendioso Povericio Cercheremo di affrontare Anche l'attesa In maniera Simpatica Le possiamo chiamare Lui è arrivato un momento Addirittura in anticipo Addirittura in anticipo E quindi Vogliamo Gentili signorine Vi presenti E anche i signori Mi sembra di vedere Signorini pochi Però comunque ci sono i genitori Ci sono i nonni Quindi insomma Il primo applauso Va fatto proprio a papà E mamma E nonne Anche perché qui C'è una meraviglia Di materiale Io ho bambini di 6 anni Perché sai che quello che prendo oggi Lo spendo tutto Ma lo faccio con piacere Perché davvero Vi do tanti sorrisi E tanta positività Ma adesso Ci rifacciamo donare Da loro due I sorrisi Però bisogna accoglierle Con un bel applauso Secondo me Sennò vanno persunto Siete pronte? Uno, due, tre Via L'applauso più forte E quindi Se vogliono raggiungerci Abbiamo queste due Meravigliose creature Che possono arrivare Da questa parte Eccolo Ciao ragazzi Guardate che carine che sono Ciao Ciao E ormai sono diventato Anch'io Vosto a seguire Infatti noi siamo andati Un po' con il lockdown E vedere finalmente Delle persone Con dei visi reali Non da uno schermo Ci fa veramente Super piacere Cioè poi potervi abbracciare Insomma Siamo Come penso che Vediate super emozionate Noi stesse Per potervi avere tutte qui Non pensavamo Di poter Avere una famiglia Così grande Una famiglia Così Che ci vuole bene Siamo davvero super fiere Fatta di bellissime persone Qua ogni giorno Ci scrivono anche Un sacco di messaggi Super carini Quindi vi dobbiamo Solo che ringraziare Siete voi Che avete fatto Crecchia alle Auri Perché se avete Tutti voi Noi saremo Soltanto due strelle Che vivono la loro vita Tranquilla L'evento durerà Fino alle 6 e mezza Avremo occasione Di fare Fatti insieme a voi Firmare Tutto quello Che volete Tra l'altro Ci sono anche I nostri maglietti Se volete Prenderli Potremmo firmarvele Con dei penarelli Appositi Con il tessuto Mi vuole fare Che poi Se li lavate Non vanno via Registreremo Il vlog Della giornata Quindi Poi c'è la mamma Che fa la camera Pensate Vi vedrete su youtube E poi faremo un po' di tiktok insieme Un po' di giocare Un po' di tiktok insieme Perché andriamo più a posto Passeremo più a me Tutti insieme Quindi ecco adesso Inzeremo a fare le foto Singularmi Un'altra di voi Che chiarano un pochino Nell'attesa che ci stanno Ci vorrà Un minuto Sì Un minuto circa Bene Parlavate di comunità Una comunità fortunatamente Anche reale Ci sistemiamo? Perfetto Mettiamoci in maniera tale Che innanzitutto Il nostro manno Farà lo scatto giusto C'è anche un gadget Giusto? Certo C'è un mancio Mettuto da me La l'alip Di quello che anche Stanno il nostro prodotto È esclusivo Non c'è nessun sito Nel da nessuna parte Soltanto qui Soltanto questo evento Abbiamo fatto Due mie ruote Bello E io adoro Le sebrate Sì Adoro La piccola pizza Per le sebrate Ma anche di Nel man generale E da dove viene Ma hai fatto Supermiancio Ciao Ciao vuoi riscrivere anche per Anita? e tu che grazie devi iniziare invece bocca al lupo ciao lilla, rosa, bena lilla sarà un fantastico inizio ah sì, in montanare non si spetti e poi non fa il sabato soprattutto è un cuorecino tu come ti chiami? ciao Attila, che piacere da dove sei? oh, che cazzo grande allora facciamo vedere Allie, Allie, Allie e la buongiorno, buonasera, buonasera, buonasera benvenuti nel mondo del canale io sono Allie, io sono Allie e tu Allie, Allie, Allie si vuole farmi notare che ha scritto Allie e Allie in derota che carina si fa una bellissima letterina che è Zorero si, ovviamente non è più non è più, non è più, non è più non è più, non è più, non è più vuoi filmato avanti o dietro? e Lilla, Rosa? si Lilla tanto che papi ti vuoi prendere di Lilla perfetto ma pure le nostre foto del feed di Instagram quindi ci fidiamo come finiscono ciao 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 vlog ciao vlog ciao vlog grazie mille buon inizio a scuola si, parliamo un po' rabbinate, Auri ciao ciao la prima pagina a dove gravitiamo? prima pagina o dentro? a un filo e vi faccio anche un po' inizio ma comunque vi piacciono i nostri nuovi capelli standa della parrucchiera oggi apposta per cui adesso siamo ciao ciao grazie 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 mille che ti faccio un po' inizio a scuola grazie mille grazie mille e ti mandiamo un po' inizio a scuola ciao grazie grazie mille no vabbè ciao 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 no vabbè guardate che bello oh mio Dio è stupendo guardate che carino cioè hai disegnato anche più belle di quello che ti amo cioè è stupendo grazie ma prenderemo sicuramente alla 60 di registrazione grazie mille oh Dio che bello no grazie mille grazie mille ciao siete fantastiche vi amo spero di vedervi a Verona ciao grazie mille grazie ciao la facciata con voi scusami e da dove vieni? sto cercando soltanto di camminare ah che bello fai che scriviamo e tu cosa fai? la faccio un po' inizio a scuola altro? oh e non la faccio un po' inizio si si e non la faccio un po' inizio si e non la faccio un po' inizio si oh no no Alice dove sta buona? no la Liduria no la Liduria la Liduria Lilo la facciamo la foto tutte e tre insieme salutate ciao avancioni troppo 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 gentili grazie vai Arly se me lo tieni tirato grazie salutiamo ciao ciao e voi che parte fate? io vado in prima media io vado in quattro oh che bello ciao allora facciamo prima foto belle stranci buone belle buone belle buone buone stupendi sono fatti quello con me ma da ischia da ischia ci siamo anche andate Emilia si infatti ciao ciao grazie mille grazie e magari ci vediamo la prossima pesata certo sicuro vai filmiamo? certo no vabbè 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 guardate che meraviglia è stupendo grazie mille ciao poi vedo un bellissimo guacitezza ciao 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 come vi chiamate? guardate che bello ok ciao ciao vuoi l'inizio di suo plastico allora? guardate che carina stella grazie dove sei? grazie a voi ciao grazie mille grazie aspetta un altro abbraccio grazie ah che organizzazione vai ciao ciao guardate che carini guardate che carini troppo carini saldate ciao 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 see ciao come va? ciao da dove vieni? ah ok quando veni? vai vuoi partire? bello grazie a te le tue abbiamo appena finito l'evento è andato benissimo è stata una giornata super piena non ci aspettavamo tutte queste persone che venissero da parti di Italia anche lontanissime per noi e che io non conosco geograficamente parlando e per venire a farsi una foto ad autografare le cose con noi quindi davvero grazie mille per tutto l'affetto che avete portato con voi il video del mia quiz speriamo tanto che vi sia piaciuto noi veramente abbiamo cercato di riprendere il più possibile ma c'era talmente tanta gente che abbiamo dovuto dare il telefono alla mamma esatto è stata la nostra cameraman noi veramente abbiamo vissuto delle emozioni uniche vi ringraziamo ancora non abbiamo parole per ringraziarvi ringraziamo anche Giustachini per avere ospite del nostro evento speriamo tanto di poterlo fare anche molto presto in altre località d'Italia magari scriveteci dove vorreste il prossimo evento che faremo il possibile per accontentarvi in questo video non salutiamo nessuno non salutiamo nessuno perché è un video molto speciale ma riprenderemo dalla settimana prossima perché dobbiamo ringraziarvi uno a uno tutta la Sanca Sanis Family per essere venuta all'incontro per averci fatto compagnia per averci davvero dimostrato tutto il vostro calore tutto il vostro affetto esatto per essere stati così educate speciali come me e lalle che eravamo super emoziate ma ovviamente ricominceremo a salutare da lunedì prossimo e speriamo che questa prima settimana di scuola sia andata bene noi vi ci vediamo lunedì con il prossimo video ciao